Ciao a tutti! Allora, ci sono molti che mi chiedono molto molto spesso posso trovare lavoro in Germania? Come devo fare per trovare un lavoro in Germania? Per trovare un lavoro in Germania devi avere un piano, cioè devi sapere quello che stai facendo e con questo voglio dire che probabilmente ti conviene se vuoi lavorare nell'agenzia spaziale anche usare soltanto l'inglese, se tu sei così bravo che sei in grado di lavorare nella ricerca spaziale non hai assolutamente bisogno del tedesco subito. Se tu vuoi fare un altro tipo di lavoro, per esempio lavorare, non lo so, forse come cameriere, non hai bisogno di troppe parole, soprattutto se è un ristorante italiano hai bisogno delle basi, quindi puoi fare anche un corso di base in Italia. Io quello che consiglio sempre è di andare e vedere che cosa c'è, anche per una vacanza, di farsi un corso di tedesco di base se volete direttamente in Germania o prima fare questo corso in Italia e poi andare a fare una vacanza tra virgolette perché è un'ispezione più che una vacanza e vedere com'è. Dimenticatevi l'idea che tutto sia facile perché io non è vero che come dice il mio Ethers me la tiro di qua e di là, non me ne frega niente di tirarmela io vi dico la verità. La verità è che io ho un dottorato. Questo è un pezzo di carta che potete andare a verificare su LinkedIn e non credo di saper falsificare i documenti così tanto bene. Benissimo, ho avuto dei grossi problemi a trovare lavoro perché non tutte le cose che sono state fatte in Italia corrispondono alle cose che fanno in Germania per esempio, io ho studiato Ingegneria Meccanica, poi ho voluto continuare perché ho vinto una borsa di studio in Repubblica Ceca e ho fatto un dottorato in Logistica. Bene, la Logistica loro la studiano in un modo diverso addirittura molti fanno dei corsi professionalizzanti finiti, non lo so, finita la maturità fanno questi corsi professionalizzanti e non hanno bisogno neanche dell'università oppure direttamente fanno un house building dopo che hanno finito la scuola diciamo di base detto questo ho avuto dei grossi problemi perché ero troppo qualificata e ho faticato moltissimo a trovare lavoro il mio eter subito era tutto contento e ha detto che io avrei dovuto rifare tutta la scuola la scuola non va rifatta perché ci sono alcune cose che hanno corrispondenza internazionale questo è garantito dalla conferenza di Bologna che è stata fatta credo nell'anno 1986 io con le date non sono brava quindi non mi credete andate a verificare mi scuso avrei dovuto controllare prima ma credo proprio che sia stata del 1986 dove hanno inaugurato l'Erasmus detto questo preparatevi un piano, quello che volete fare nel breve tempo e nel lungo tempo io ho avuto un impatto molto duro con la Germania perché ho avuto la possibilità di studiare e lavorare questo ha fatto sì che io dalle 9 fino alle 13 avessi un corso dopodiché tornassi a casa con la bicicletta parcheggiassi la mia bicicletta e andassi direttamente alla stazione dei treni prendessi due treni dopodiché lavorassi dalle 15 fino alle 21 questo per i primi 4 giorni della settimana poi mi rimanevano da recuperare molte ore perché per quanto non si lavori necessariamente 40 ore alla settimana un certo numero di ore minimo deve essere fatto per il lavoro che faccio che sono 37 ore e mezza quindi dovevo lavorare molto di più il venerdì e molto di più il sabato quindi mi rimaneva soltanto la domenica per finire tutti i compiti e vi garantisco che dopo 2-3 mesi io sono alla fine ho finito oggi il corso ma sono fisicamente distrutta ho avuto anche dei problemi di salute quindi il fatto è che ho da tempo la tiroidite di Hashimoto quindi ho avuto dei grossi problemi cioè di per sé può essere asintomatica nel mio caso da grossi problemi di insonnia nervosismo e stress che si aggiunge a stress quindi benissimo non è una passeggiata andare all'estero se voi partite preparati ce la potete fare quello è il messaggio che voglio darvi però dovete andare preparati e soprattutto una cosa toglietevi dalla testa che non studiando mai il tedesco bene o male voi ve la caverete perché a un certo punto non salirete più al di là di certi livelli quindi quando siete qui iscrivetevi a un corso di tedesco per quanto duro portatelo avanti cercate di fare i compiti sempre fate domande e poi contattatemi nel caso aveste delle crisi isteriche perché io ho faticato tantissimo ma ho faticato tantissimo anche a Repubblica Ceca se non di più perché ero anche più giovane ero anche molto meno esperta e poi c'è da dire che io adesso sono in un modo dieci anni fa ero completamente diversa non avevo senso pratico questo è tutto quello che volevo dirvi non voglio spaventarvi voglio direvi ce la potete fare ma non pensate che sia facile che ci sia l'oro qui e che vi sia tutto dovuto perché non è così non è così chi vi dice il contrario sta mentendo perché comunque le elezioni del personale ci sono molti colloqui sono fatti in tedesco e quindi preparatevi partite preparati piuttosto rimandatevi sei mesi ma fatevi un corso di tedesco o cercate di risparmiare dei soldi fate dei corsi di tedesco accelerati online ci sono tantissime possibilità online di trovarsi dei tutor madrelingua molto gentili oppure di venire qua e di farvi delle vacanze studio ma sono più studio che vacanze perché se volete ottenere dei risultati dovete impegnarvi questa è la realtà un bacio a tutti e io non sono capace a vendere sogni per cui vi ho detto la verità ciao